amadeus torna in prima serata su 9 con il popolare show la corrida 2024 a partire da mercoledì 6 novembre il conduttore amatissimo ritorna sulla rete del gruppo discovery dopo l'evento musicale di settembre portando con sé divertimento e autoironia il format si ispira al leggendario programma ideato negli anni 60 da corrado e riccardo mantoni offrendo esibizioni eccentriche e ironiche da parte di dilettanti che si cimentano in performance di vario tipo in otto puntate settimanali concorrenti non famosi si esibiranno davanti a un pubblico pronto a giudicarli senza mezzi termini il pubblico in studio tra campanacci e applausi voterà per le esibizioni preferite decretando il vincitore simbolico di ogni puntata accanto ad amadeus un'orchestra di 30 musicisti diretta dal maestro leonardo de amicis accompagnerà gli artisti sul palco ogni settimana un giudice speciale che cambierà di puntata in puntata avrà il potere di influenzare le decisioni finali e di selezionare un concorrente per la finale l'ultima puntata incoronerà il vincitore di un'edizione che promette risate ed emozioni con un cast di cantanti comici ballerini e altri artisti che rappresentano una parte autentica dell'italia la corrida 2024 su 9 sarà un'occasione per le persone comuni di essere protagonisti davanti alla telecamera mostrando il loro talento e regalando al pubblico serate di spettacolo e divertimento non perdete l'appuntamento con amadeus e la corrida un mix di talento ironia e sorpresa un mix di talento ironia e sorpresa